Siamo qui con Rosk, che viene da Cattanissetta, giusto? La prima volta qui ad Overline. Cosa ne pensi della manifestazione? Intanto grazie perché sono il terzo straniero, mi hanno detto, di questo evento. No, comunque è bello ritrovare i vecchi amici, è un'occasione per stare tutti assieme. Se ce ne fossero di eventi come l'Overline. Mi hanno detto di dire Overline almeno tre volte per l'intervista per fare sponsor. Non la tagliate! Non penso sia vero. Ti è piaciuto il tema dei pirati? Rispiegaci un po' il tuo pezzo. Allora, il tema dei pirati è nato dopo una telefonata con Andrea che dice cosa scegliamo? Facciamo i pirati. Sì, quindi mi rendo anche irresponsabile. No, comunque è un bel tema. Rende tutta la murata unica, anche perché ci unifica l'acqua. Questi elementi che tutti hanno ripreso. Quindi credo sia stato un ottimo collante per creare un'opera unica. Ed è comunque divertente vedere tutti che dipingono i pirati, ognuno col proprio stile. Fa caldo? Ti vediamo sudato? No, no, è freddo. Sono ipotermico. Grazie, buona continuazione. Grazie a tutti.